Una mostra molto affascinante e dedicata al futuro dal titolo Un giardino per il futuro è visitabile fino al 26 aprile presso Caserma Archeologica Sansepolcro. Una mostra che ha un doppio binario, curata da Anna Zita Di Carlo e realizzata in collaborazione tra Caserma Archeologica, Laboca Museum e il Friday for Future. Un gruppo che già da tempo si era dedicato a una sorta di clinica delle piante. Il doppio percorso è il binomio creato tra le opere di un artista famosissimo, Faintino, un numero uno nella scultura concettuale ottenuta attraverso la ceramica e le piante, circa un'ottantina, date a disposizione della mostra da parte di Apoga Museum. Il tema è la resilienza, la resistenza, come le piante nel tempo si sono adattate a tutti i cambiamenti e quindi ci auguriamo anche a quello climatico attuale e come certe forme che le piante assumono possono essere riproposte nelle forme di Andrea Salvatori che da tempo lo vogliamo definire un neodadaista ma anche un neorinascimentale qualunque definizione forse non è del tutto appropriata perché non è un utilizzatore del readymade è proprio il creatore di nuove forme che assomigliano a quelle che assumono anche le piante e che creano un binomio di percorso verso il futuro, ripeto, di straordinaria bellezza.